Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Roma si prepara a dire addio a uno dei volti più amati della televisione italiana, Luca Giurato. Il giornalista e conduttore, deceduto improvvisamente mercoledì all'età di 84 anni, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza al mare con la moglie Daniela Vergara. I funerali si terranno venerdì 13 settembre presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, alle 14.30. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, con tanti colleghi che hanno voluto esprimere pubblicamente il loro dolore. Da Mara Veniera a Roberta Capua, in molti hanno condiviso ricordi commoventi del loro rapporto con Giurato, una figura considerata da molti come un pilastro della televisione italiana. Saranno moltissimi i fan e gli amici che si riuniranno per l'ultimo saluto, in un evento che si preannuncia toccante e carico di emozioni. Le persone vicine a Giurato lo ricordano come una persona di grande umanità, capace di far sorridere e riflettere con la sua inconfondibile verve. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Le ore successive alla sua scomparsa sono state segnate da un'ondata di tributi e ricordi da parte di colleghi e fan. La sua lunga carriera è stata costellata di momenti memorabili, dall'inizio come giornalista a prestigiosi ruoli di conduzione. Giurato è sempre stato amato per la sua spontaneità e per il suo stile inconfondibile, che lo ha reso una presenza insostituibile nel panorama televisivo italiano. La cerimonia di venerdì non sarà solo un momento di commiato, ma anche un'occasione per celebrare la sua eredità, il suo contributo al giornalismo e alla televisione. Luca Giurato resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di chi, da casa, ha condiviso con lui tanti momenti davanti al piccolo schermo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.